Penso sia anche giusto iniziare, vi do il benvenuto anche perché siamo all'inizio della stagione autunnale dell'Officina delle Idee, ci eravamo lasciati all'inizio dell'estate quando abbiamo avuto ospite l'amico Magdi Allam e adesso appunto riprendiamo come da programma con la stagione autunnale. Come proseguirà la stagione? Mi permetto di dirlo dopo, alla fine, così diremo qualche cosetta e faremo anche qualche riflessione cittadina. Però mi permettetemi adesso di dare il benvenuto all'amica Francesca Ciauqui, autrice del libro Nel nome di Pietro, del quale parleremo questa sera. E saluto e ringrazio per la sua presenza Manuela Muzzolini che darà lettura, si è prestata gentilmente questa sera a leggere alcuni testi particolari che appunto Francesca Ciauqui ci ha portato e che costituiscono un po' la curiosità di questa serata perché se vogliamo sapere le vicende narrate del libro basta leggere il libro. Quindi stasera invece parliamo di quello che non c'è sul libro e tra quello che non c'è sul libro ci sono alcuni pezzi che verranno appunto letti da Manuela Muzzolini. Peraltro anche lei è autrice di un libro sulle figure, le dimenticate figure femminili della storia, qualcosa di questo genere mi sembra, giusto? No perché è sul comodino di mia moglie, lo vedo, lo sta leggendo ma io appunto non l'ho ancora letta appunto sulle figure femminili nella storia. Quindi prima di lasciare la parola Francesca Ciauqui e stuzzicarla con tutta una serie di domande che mi sono venute in mente penso, lei molto gentilmente ha portato un video che dura un paio di minuti, che racconta brevissimamente la storia, la vicenda perché comunque ci aiuta ad entrare nel clima delle mura vaticane così con gli occhi con i quali l'ha vissuto lei perché io parto sempre dal presupposto, questo vale un po' come regola di vita, le cose non sono sempre mai come sono sono sempre come le vediamo, come le percepiamo, come le viviamo, quindi lo stesso evento, la stessa situazione può essere vista con occhi diversi. Ecco quindi noi invece questa sera entriamo nelle mura vaticane con gli occhi di Francesca Ciauqui e quindi nel diciamo col patos, col sentimento che l'hanno attraversata e che l'hanno probabilmente anche fatto vivere dei momenti di travaglio nell'ambito di questa esperienza tra le mure vaticane. Quindi farei partire il video come da copione. anche un ringraziamento, siamo anche in diretta Facebook e quindi... Sì, adesso... Sono Francesca Immacolata Ciauqui, sono l'unica donna che il Santo Padre ha chiamato all'interno della commissione referente per gli affari economici della Santa Sede. Cosea era composta da otto membri, tutti scelti dal Santo Padre. Sembrava l'occasione giusta per rendere trasparenti gli affari economici della Santa Sede e invece era l'inferno. Abbiamo iniziato a lavorare e ogni di castero, ogni congregazione nasconde il problema da risolvere. Ma la curia è contro di noi, i membri della commissione sono l'uno contro l'altro. Ogni giorno sembra più difficile andare avanti. Siamo nella giungla degli sprechi, lo IOR, l'Apsa, l'AIF, il Governatorato, la Prefettura degli Affari Economici. I bilanci sono in rosso, le inefficienze sono ovunque. Il Santo Padre vuole la trasparenza, ma questo non è l'obiettivo della curia. La macchina del fango è in azione. Mi vengono attribuiti dei falsi tweet. Mi viene offerto del denaro per sabotare il lavoro di trasparenza. Mi accusano di essere stata la persona che ha consegnato i documenti ai giornalisti. Ma non è vero. Mi arrestano. Mi rinchiudono in una cella. Ma io sono incinta. Perdo sangue. Mi portano all'ospedale Santo Spirito. Mi diagnosticano il distacco della placenta. Mio figlio sta morendo. Mi ordinano di rimanere a letto per provare a salvarlo. Ho dimostrato di non aver mai tradito il Santo Padre. Non l'avrei fatto mai. Avrei dato la vita per lui. Come si sopravvive a Vatilix? Non si sopravvive a Vatilix. In nessun modo. La persona che era muore. E ne nasce una nuova. Alla fine la vita è vinta. Eccolo qua. Pietro Elia Antonio. Il figlio di Vatilix. Il figlio della strega. E per te, figlio mio, ho scritto nel nome di Pietro. Il nostro testamento per la verità. Ecco, visto che il video è terminato, possiamo, penso, accendere le luci. Ringrazio Graziano che ci sta aiutando improvvisandosi regista. E per vivere completamente il clima del Vaticano chiederei appunto alla professoressa Manuela Muzzolini di dare lettura del primo passaggio di quei testi che non ci sono nel libro e che poi scopriremo se faranno parte di una prossima iniziativa editoriale. Ma questo, quando Francesca Ciocchi ci parlerà, lo scopriremo poco alla volta. New York di nuovo, dopo due anni. L'eco del vento risuona dalla suite dell'albergo di lusso dove alloggio. È appena iniziata la sera. La mia assistente ha preso un appuntamento per me, l'unico disponibile, accertandosi che fossi da sola. Una macchina mi aspetta giù. L'autista mi avverte con un SMS che lampeggia sullo schermo del telefono, sopra il viso di mio figlio di tre mesi. È settembre, ma l'aria è già tiepida, umida, sbagliata per questa stagione. O forse sono solo io che ho freddo, come al solito. La Red Baron Inc. mi aspetta. È il miglior negozio di tatuaggi della città. Grant mi aspetta. Il mio ufficio stampa gli ha inviato la mia rassegna stampa. Gli articoli usciti in America che parlano di me. Le mie interviste a New York Times, al Sunday e al Boston Globe. In macchina non parlo, ricordo. Penso che quando vengi qui l'ultima volta, Cosea era ancora in vita. Ero l'unica donna al mondo ad avere accesso diretto al pontefice. Ma nessuno o quasi sapeva chi fossi. E giravo in metropolitana senza poter permettermi altro. Oggi sono tre mesi esatti dalla sentenza che il Tribunale Vaticano ha emesso contro di me. Dieci mesi con pena sospesa per concorso nel reato commesso da altri. Ho un'auto di lusso, una suite immensa, l'agenda invasa. Aveva ragione Andreotti, purché se ne parli. E di me ha parlato tutto il mondo. Ogni giornale del globo terrestre che contasse sul suo territorio una diocesi, grande o piccola. E adesso ognuno vuole sapere chi è la papessa. Come mi chiamano in Italia e ormai dovunque. La donna che Bergoglio ha scelto e poi lasciato che processassero incinta per divulgazione di notizie e documenti riservati. Ora la mia agenda prospera. Aumento il prezzo degli ingaggi per le conferenze. Ho appena firmato il contratto di edizione del mio primo libro. Ma tutto questo è una magra consolazione. La sentenza ha fatto esplodere il mio cuore in migliaia di pezzi. Uno più piccolo dell'altro. Pezzi, cenere, fango, buio. Che non si riattaccano mai. Neanche quando Pietro, mio figlio, mi guarda bello come la vita che inizia. La notte ripeto le parole della mia condanna a memoria. Le ho imparate a forza di rileggerle. Rivedo e risento la scena. Milioni di volte per notte. E non è servito del tutto portare mio marito e mio figlio di due mesi in Islanda per l'estate. Non è servito far finta che più soldi e più voce di quanto avessi mai potuto sperare di avere nella mia vita potessero bastare a compensare i vetri frantumati che mi scricchiolavano nell'anima ogni volta che pensavo a Papa Francesco. Ho paura a ricordare, ma anche a dimenticare. Anzi, ho il terrore di dimenticare. Ecco perché sono qui. New York è la mia compensazione al dolore, alla disperazione, al senso di rabbia così forte che niente e nessuno riesce a placare se non questa città. L'area del negozio di tatuaggi è densa di disinfettante. La luce è bassa. Hanno già il disegno che voglio farmi incidere. L'ho disegnato sul tovagliolo della business class del volo che mi ha portato qui. Ed è stato inviato insieme al resto, affinché non dovessi parlare molto. Non ne ho voglia. Non ne ho la forza. Grant mi dice Ok, lo stemma mi è chiaro. Che colori devo usare? Io, il bianco, il nero, l'oro. Lui, avrei detto il bianco, il giallo, il celeste. Io, quelli sono i colori del popolo. Non c'entrano niente con me. La chiesa è il dono che Dio ci ha fatto per distinguere il bene dal male. La redenzione dal peccato. Il bianco dal nero. Lui, e l'oro? Io, l'oro è la regola aurea. Mi ricorda che il potere è l'unica cosa che traccia il limite tra il bianco e il nero, tra il giusto e lo sbagliato, tra il bene e il male. Adesso, il video, le parole delle letture, appunto, la parte inedita, poi entreremo nella parte documentale, forse per solleticare anche la curiosità di molti. Ci fanno capire l'approccio con il quale Francesca Ciacqui ha vissuto questa avventura vaticana. Ci domandiamo perché abbiamo portato a Rivarolo una conferenza su questo tema, ma è molto semplice. Penso non sia un mistero la mia passione per la politica estera. E chiunque si interessi di politica estera non può non interessarsi anche al Vaticano, che al di là del suo ruolo di guida della Chiesa Cattolica nel mondo, insomma, il mandato del Papa, l'attività pastorale dei Vescovi e quant'altro, c'è il ruolo del Vaticano come Stato del Vaticano. Non uno Stato minuscolo, un chilometro quadrato nel centro di Roma, ma uno Stato potentissimo, uno Stato che sulla scena internazionale svolge un ruolo strategico importantissimo. Ci sono quegli Stati che forse pesano un po' di più, pensiamo agli Stati Uniti d'America, la Federazione Russa, lo Stato di Israele, il Vaticano. Ecco, credetemi che lo scacchiere internazionale, lo scacchiere internazionale, il Vaticano, i suoi archivi, i suoi salotti che spesso si prestano ad ospitare anche eventi riservati e privati, hanno un ruolo strategico importante. E quindi la prima domanda che pongo a Francesca Ciauqui, chiedendole chiaramente e dandole anche tutto lo spazio che vuole per dire ciò che desidera dire in questo momento, è questo. Una donna che entra in un territorio assolutamente maschile, fa parte di una commissione e al di là delle accuse, al di là di quello che è stato il processo, però porta a termine la sua gravidanza. Francesco Lì e Pietro Lì e l'abbiamo visto, l'ho visto anch'io personalmente, anche per le sue feste di compleanno, ecco, quindi è un bimbo splendido. Penso che l'aver portato a termine una maternità in una situazione particolarmente complessa sia veramente il poter affermare la vittoria della donna in un clima ostile, prettamente maschile, che porta a casa quello che forse è il più bel risultato che una nonna possa realizzare, quello appunto di dare alla luce un bimbo. Più lo fa in una situazione difficile, più questa cosa sicuramente dà soddisfazione. Ma in una situazione come quella che ha vissuto Francesca Ciauqui, penso che si possa dare una chiave di lettura particolare, cioè quella della donna che in un ambiente ostile porta a casa non solo la vittoria, ma porta a casa il massimo della vittoria alla quale una donna possa aspirare quella appunto di generare, procreare e dare alla luce uno splendido bimbo al quale non a caso è stato dato il nome di Pietro. Io quindi ringrazio Francesca per la sua presenza qui, le passo la parola e le chiedo appunto di darci questa chiave di lettura, poi tutta una serie di altre domande che chiaramente, però penso che adesso il video, le parole del testo aggreggiamente lette da Manuela Muzzolini, il mio lunghissimo introduzione, ma penso che noi siamo qui per ascoltare lei, non per ascoltare le mie noiose parole. Quindi grazie Francesca per essere qui, a te la parola. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità di conoscere questa splendida cittadina, grazie Fabrizio, grazie professoressa per questo regalo che mi avete fatto. Devo dire che sono veramente contenta di parlare per la prima volta di questo, non tanto nel nome di Pietro, che è stato il libro che come avete visto è nato subito dopo la fine della commissione, la nascita di questo processo che poi mi ha visto protagonista, che sicuramente anche voi avrete avuto modo di leggere sulle cronache, mi ricordo che in quel periodo lì tutti i telegiornali erano sempre la notizia d'apertura, quindi certamente avrete avuto modo di conoscere questa storia qui. Ma mi fa piacere perché una buona parte del percorso veramente complicato e difficile che è stato quello della pubblicazione. Quando io e Fabrizio ci siamo conosciuti il libro è stato pubblicato da poco ed ero ancora in una fase complessa, perché comunque decidere di scrivere una sorta di, chiamiamola così, biografia controcorrente nel momento in cui il mondo crede ad un'altra persona che non è quella vera, è veramente difficile. Allora avevo scritto questo libro ma pensate che io all'inizio facevo pochissime presentazioni del mio libro, ci sono veramente state pochissime occasioni in cui andavo a presentare il libro, avevo inviti veramente da ovunque in Italia perché poi per fortuna il libro ebbe un grande successo e decisi di farne pochissime. Pensate che io a Roma ho fatto una sola e unica data di presentazione del mio libro, in una libreria vicino a casa, quindi era come se questo libro fosse, e l'avevo fatto ma non avevo ancora la forza di parlare davvero di questo libro, di cosa è stato questo libro. E allora io ho conosciuto per ragioni professionali Fabrizio proprio a quel momento là, e insieme a lui e insieme ad altri amici che speravo che stasera fossero qua, abbiamo iniziato una sorta di, poi per caso, perché con le persone che conosci da poco cominci in qualche modo ad essere più libera di parlare di quelle cose, con quelli che invece conosce più pudore, e la famosa teoria dello sconosciuto. E così con Fabrizio, con questi amici, ho iniziato io stessa a domandarmi come sopravvivere al dolore che mi portavo dietro, un dolore che nessuno comprendeva, che neanche io comprendevo, perché nel brano che ci ha letto la professoressa, che sarà l'incipit del nuovo libro che sto scrivendo, era un dolore incomprensibile per il più, perché da che appunto avevo subito un processo, da questo processo era nata appunto l'idea del libro, io mi occupo di comunicazione e relazioni pubbliche, ho messo su la mia agenzia di relazioni e sono subito arrivati degli incarichi, professionali, molto importanti, quindi avevo delle opportunità di contatto grandissime con qualsiasi tipo di interlocutore, mondo della politica, i contatti in Vaticano che comunque chiaramente non avevo mai perso, piuttosto che la stampa, piuttosto che altro, e allora tutti si domandavano, mio figlio da che avevo avuto una gravidanza complessissima, affrontata peraltro durante il processo, che non solo era nato ma stava benissimo, insomma tutta una serie di difficoltà però superate, e allora tutti quanti mi chiedevano ma cos'è che non va, cioè perché, che succede, e io non avevo una risposta a questa roba qua, sapevo soltanto che appunto sentivo questo rumore di vetri rotti ogni volta che mi capitava di vedere il Papa in televisione, piuttosto che dicevo io non meritavo questo, non meritavo questo processo, non meritavo quello che è accaduto, e allora cercavo di capire, e così un giorno appunto Fabrizio è arrivato nella mia vita insieme ad un'altra persona, proprio quando era arrivato il momento di decidere che cosa fare di questi vetri rotti che avevo dentro, e piano piano, piano piano gli eventi hanno iniziato a muoversi, le energie hanno iniziato a lavorare su Roma, e qualcosa è iniziato a cambiare, prima di tutto dentro di me, e così sono arrivati anche i fatti, perché questa che vi ho dato finora è una prospettiva personale, quello che ora vi racconto è anche quello che poi è accaduto di fatto, nel mio libro e nella mia storia io avevo preventivato che sarebbero accadute delle cose che avrebbero inficiato la riforma degli affari economici che il Santo Padre voleva fare, e la prima di questi era il fatto che il Cardinale che era stato posto a capo di questo di Castero, che era stato creato dalla mia commissione, subiva in Australia un processo per pedofilia, si sapeva che ci sarebbe stato questa cosa, ma non era ancora ufficiale, nel momento in cui subito dopo l'uscita del mio libro è arrivato il provvedimento ufficiale, e questo capo di Castero, un Cardinale, che era l'uomo chiamato dall'Australia, dal Santo Padre a fare luce, a risanare le finanze della Santa Sede, è costretto a lasciare lo Stato per tornare e affrontare il processo che ancora tuttora lo vede indagato per pedofilia. Questo significa che chiaramente appunto il clima in cui la mia commissione ha vissuto e il mandato che noi avevamo ricevuto dal Santo Padre a vissuto, era già da prima, come dire, inficiato appunto da queste necessità personali. Il Cardinale, che era stato comunque l'uomo che fortemente aveva voluto questa commissione, aveva come primo obiettivo quello di sfuggire a quel processo. Papa Francesco non gliel'ha permesso, perché nel momento, nonostante fosse a capo della Santa Sede, a capo del Dicastero degli Affari Economici della Santa Sede, e munito di passaporto della Santa Sede, è stato costretto a lasciare lo Stato e tornare in Australia. Quindi questo è stato un primo dei punti fermi, una delle persone che maggiormente mi aveva avversato, contrastato e, diciamo, reso non sereno il lavoro all'interno della commissione, era il primo a essere andato via. Gli stessi altri membri della commissione ad un certo punto si era scoperto che avevano degli interessi tra loro, società insieme, e volontà di creare dei fondi di gestione all'interno di un altro Stato che avrebbero dovuto consentire allo IOR, che è la manca della Santa Sede, di investire i soldi in questo fondo in cui loro avrebbero lavorato. Io un giorno, senza che ne sapessi nulla, arrivo in ufficio, apro per caso dei documenti e trovo un promemoria per il Santo Padre dove si chiedeva di firmare appunto l'apertura di questo, si chiamava Vatican Asset Management, e ne avevano dato i notizi giornali, il Santo Padre l'aveva ufficiosamente approvato, ma nel momento in cui io trovo questo foglio, io prendo questo foglio e dico, ma scusate, ma queste sono decisioni che non ha preso nessuno, perché abbiamo, da che bisognava creare un sistema trasparente di gestione delle finanze, qui vedo la volontà di creare un fondo in Lussemburgo per far transitare i soldi del Papa, dico, è pazzesco, ma in quel momento lì io compio una scelta precisa, ancora non sapevo nulla dei giornalisti, nulla, non c'era il processo, era in una fase di fisiologia normale dell'attività della Commissione, e trovo questa roba qua, e in quel momento lì, preciso, in cui io avevo potuto prendere quel foglio, andare dalle persone che volevano creare questo fondo e dire, guarda, io ho trovato tutto, se tu non mi dai il 5% di questo fondo qua, io ve lo smonto, no? E invece io in quel momento lì ho fatto una scelta precisa, che era quella, e sapevo, vedete, io ero perfettamente consapevole, che se non fosse stato il processo, il processo per divulgazione dei documenti, sarebbe stata qualche altra cosa, perché nel momento in cui ho preso in mano quel documento, ho detto, io questo lo porto al Papa stasera, e l'ho consegnato al Papa, un'ora dopo aver capito cosa fosse, insieme ad una nota di accompagno, dicendo che era una roba che non andava bene, io ho fatto una scelta precisa, una scelta suicida, no? Io ho scelto di non far parte del sistema, io ho scelto di portare avanti il mandato di trasparenza che il Papa mi aveva dato, e quindi ho preso questo foglio e l'ho consegnato al Papa, e ho detto, ah la santità, che qua i soldi se li portano via all'Ostremburgo, la trasparenza la facciamo perché poi non c'è più nulla da gestire, quindi trasparenza nel senso che lì ci fermiamo, no? E così il Santo Padre blocca la creazione di un fondo che era stato già annunciato ai giornali, no? Il giorno dopo di questo viene dato l'annuncio che il Vatican Asset Management non esiste, è un progetto chiuso, finito. E lì inizia, inizia per me la caccia dalla persona da cui dovevo difendermi, no? E la cercavo, io ero là in Vaticano che dicevo, sarà lui, sarà lui, vediamo cosa sarà, mi guardavo da qualsiasi tipo di trappola, cioè, pensate che in quel momento là avevo smesso di frequentare gli amici che frequentavo sempre perché la maldicenza in Vaticano è un venticello, no? Quindi dico, vabbè, adesso vedrai che se vado a prendermi in aperitivo con gli amici con cui vado da sempre, adesso ti tireranno fuori che c'è l'amante o chissà cosa, no? Quindi evitavo perfino di, proprio appunto, di fare la solita vita. E non mi era accorta che il nemico, la trappola, che si era preparato era proprio accanto a me, no? Che era forse l'unica persona che nel momento in cui io ritrovo questo foglio mi aveva sostenuto che era il segretario generale della commissione, il famoso monsignore che poi decide di dare le carte ai giornalisti. Ma perché? Perché lui stesso è vittima di questi laici che avevano deciso di prendere in giro il Papa. Perché vedete, una cosa che ho capito era che questo monsignore che era con me nella commissione che poi fa questa scelta era ad oggi nonostante tutto quello che ha fatto, nonostante il male, nonostante... Era una persona che comunque veramente credeva in quello che faceva. Era l'unico che nel momento in cui io ho detto guarda che ho trovato questo foglio quello mi ha detto portiamolo al Papa, no? E invece il nemico era proprio lui, no? Perché era accecato dal desiderio di vendetta. Doveva trovare una strada perché il cardinale doveva portarlo con sé ed era arrivato ed aveva un processo per pedofilia che ci aveva nascosto. I laici, gli altri membri della commissione si erano creati il fondo in Lussemburgo e lui è rimasto lì. Era stato l'uomo in front che era andato a consegnare le lettere di dimissione a una classe dirigente che aveva governato in Vaticano per trent'anni, no? Ed è rimasto da solo diceva adesso io cosa faccio? E la soluzione l'aveva trovata nel giorno mi dice mi presenti dei giornalisti perché io voglio cominciare a spiegare, no? E a quel punto là gli avevo avevo deciso di presentargli questi giornalisti e lui inopinatamente consegna per... ma lo fa nel tentativo di far capire quello che stava accadendo allora lui prende e con un gesto veramente impulsivo consegna l'archivio totale della commissione alla stampa, no? E ne vengono fuori i libri e da lì lo scandalo eccetera. Uno scandalo da cui poi come se leggerete nel nome di Pietro capirete, no? Come non ero più in grado io di sottrarmi a questa questa dinamica che ormai era iniziata e non avevo più come uscirne, no? E quindi era un intreccio di lavoro vita personale che si era in qualche modo come dire trasformato in una in un in una in una sorta di commedia pirandelliana che era veramente complessa da gestire, no? E in quell'ambito lì in quell'ambito lì vengono fuori questi libri che portano alla luce una piccola parte perché poi c'è anche da dire che quello che è stato oggetto dei libri è una piccola parte del lavoro che ha fatto la commissione e questa piccola parte però è già tanto per creare scandalo e quant'altro quindi la Santa Sede decide di proteggersi, no? Di proteggersi e quindi di punire severamente un atto del genere quindi il Monsignore che è consegnato le carte giornalisti attenzione ha subito 18 mesi di carcere è la prima volta nella storia che un prelato subisce 18 mesi di carcere no? E lì è stata veramente seria sia l'attività processuale che è stata fatta e se anche la volontà di applicare le pene e io stessa invece ho fatto una sola notte di carcere che però mi è bastata per tutta la vita perché quello Stato che io avevo protetto per cui avevo scelto di consegnarmi volontariamente a chiesa cosa che io veramente guardi guardate pensavo potesse essere tutto ma non quello mi si stava rivoltando contro quindi voi immaginate che io il giorno che vengo arrestata era a casa sono io che vado con le mie gambe in Vaticano perché lo Stato città del Vaticano non può operare arresti o fermi all'interno dello Stato italiano quindi sono io che alla chiamata della gendarmeria come ho sempre fatto mi recco in Vaticano per capire vado dal comandante e dico beh che posso fare e quello mi dichiara in arresto e allora dico cioè è come se il mio mondo la mia famiglia mi si stava ritorcendo contro no se mi si stessero spezzando tutto quello che mi apparteneva si fosse dissolto no e da quel momento là da quel momento là il 31 ottobre del 2015 è finita la prima parte della mia vita io la considero conclusa lì quella notte là la mattina dopo il Santo Padre sa dell'arresto dopo che questa notte la passo in pronto soccorso perché in Vaticano chiaramente non si era attrezzati per la rascita per visitare donne incinte quindi io dichiaro di essere incinta ho questa purtroppo non mi sento male mi portano in ospedale mi diagnosticano il distaccamento dello stacco vitellino quindi la gravidanza era all'inizio quindi insomma quella vita che avevo concepito perché vedete c'è un dettaglio che io non racconto mai ma che in questa fase soprattutto perché ne sto capendo ora il valore vedete io mi sono sposata a 22 anni e ho avuto questa prima gravidanza prima e unica gravidanza dopo 13 anni di matrimonio quindi immaginate no quindi io avevo scoperto di essere incinta tre giorni prima e da qui mi ricollego a quello che diceva Fabrizio dopo 13 anni in cui una donna che non riesce una coppia che si sposa a 22 anni che ha un progetto di vita che comunque è cresciuta nei valori della fede della chiesa dell'accogliere la vita eccetera e si sposa io avevo 22 anni mio marito ne aveva 25 e per 13 anni non riesce ad avere questo figlio li abbiamo provati tutte tutte le cure di questo mondo e di quell'altro eccetera fino a che abbiamo detto vabbè evidentemente questa è la volontà di Dio e poi quel giorno un giorno tre giorni prima di tutto questo faccio questo test e vedo che era positivo quindi dico vabbè cioè ero anch'io in quella fase dell'incredulità quindi il primo incontro con mio figlio la prima volta che vedo mio figlio in questa ecografia io dico cioè il desiderio che per 13 anni non si era realizzato non si era realizzato era là su quel monitor la stessa notte che io ero incinta però mi dicono che a seguito di quello che era accaduto era morto dico signora ma veramente dico che cosa mi stai chiedendo no? e allora nulla mi faccio questa questa nottata là a sto pronto soccorso sono di nuovo sul sole italiano c'è un gendarme che oggi è un mio carissimo amico peraltro che io non conoscevo ho conosciuto quella notte e oggi ci sentiamo continuamente e questo il gendarme mi dice guarda che tu sei sul sole italiano io non posso più portarti in Vaticano devi decidere tu se torni con me o non torni io gli ho detto Stefano io torno torno perché mi avete arrestato mio figlio è finito non c'ho un cambio di vestiti ma che poi ora vi racconterò un altro dettaglio su questo e non c'ho un cambio di vestiti vengo con voi che faccio vengo vengo con voi quindi lascio il pronto soccorso con la la avevo vedete io percorro la strada dal pronto soccorso a questo convento non c'è la pensando nella mia mente all'immagine del monitor con questa piccola pallina che era al sacco vitellino staccato con dentro mio figlio e dicevo e mi domandavo perché torno torno là chiudo la porta la porta di questa stanza la chiudono loro chiudono la porta dentro la stanza mi accascio su questa porta scivolo giù vedo questi pantaloni che avevo sporchi di sangue li ricordo ancora e mi domando signore ma perché perché tutto questo dico 13 anni cioè neanche riuscivo a pensare all'arresto in quel momento là dico tu mi regali questo figlio 13 anni dopo che io mi sono sposata e adesso me lo levi in arresto io sono qua davanti a te dico questa è la tua chiesa e allora avevo la cupola di San Pietro davanti e chiedo a San Pietro signore per favore mi ammazzano ancora per favore fallo vivere fallo vivere diamo a Francesca il tempo di riprendersi anche dell'emozione di rivivere quei quei momenti e cerco di riassumere io che ho letto il libro il Vaticano decide di mettere ordine nei suoi conti chiama una serie di professionalità tra cui Francesca appunto unica donna costituiscono questa commissione per volontà del Papa che ha il compito di mettere ordine e da una serie di documenti emerge appunto che tra le persone che dovevano mettere ordine c'era qualcuno che intendeva fare ordine nascondendo il Lussemburgo dei fondi si scopre anche che nell'ambito dei lavori di questa commissione c'era un cardinale che aveva come intenzione non tanto quello di mettere ordine ma quello di rimanere lì onde evitare una trasferta in Australia che l'avrebbe condotto verso un processo una donna incinta che si trova in questo contesto e che decide o mi così mi piego alla volontà di questi oppure reagisco e nel suo reagire coinvolge per rapporto personale immagino un altro membro di questa commissione un prelato che però agisce non tanto per assecondare la voglia del Papa di fare pulizia di fare ordine nei conti del Vaticano e per risparmiare anche dei soldi perché comunque il Vaticano gestisce delle enormi quantità di denaro ma anche delle enormi spese sicuramente anche degli sprechi delle diciamo delle ruberie o forse sono quelle debolezze umane che appunto spesso il denaro asseconda e quindi questo prelato che l'aiuta ma perché ha altri interessi probabilmente ha degli interessi di vendetta probabilmente determinate anche da rapporti personali con dei laici quindi è un contesto veramente complicato ho letto il libro e quindi so esattamente di che cosa sto parlando ma adesso sentendo le parole di Francesca mi rendo conto anche della situazione emotiva nella quale ha vissuto la prima parte cioè quella dell'attività della cosè appunto di questa importante commissione poi la seconda parte quella del processo dell'attacco mediatico del capire come mai sono successe tutte queste cose penso che però adesso sia il momento di parlare di ciò che il libro non ha scritto perché poi Francesca ci ha detto dice ma questa è una parte di quello che è emerso ci sono altre cose che sono emerse ci sono altre cose l'ho letto nell'intervista che hai rilasciato ieri su cronaca qui abbiamo anche qualche copia del giornale dove dice ma ci sono comunque dei segreti che io non rivelerò mai mai dire mai vediamo magari il Papa ti chiederà di rivelarli o cose di questo genere però anche questo rapporto con il Santo Padre che a un certo punto viene viene meno perché comunque il Santo Padre prima ti invita a far parte di questa commissione tu gli dimostri una determinata particolare fedeltà che però subito chiaramente non viene interpretata se no non sarebbe partito il processo e poi invece c'è un cambiamento perché poi come tutte le storie drammatiche spesso c'è un lieto fine quindi questo è il rivecinamento con il Papa che comunque nelle intenzioni amministrative politiche nell'ambito del Stato del Vaticano manifesta la volontà di mettere ordine nei conti e forse voler mettere mano ai conti spesso determina qualche quantomeno qualche inimicizia quindi chiederei appunto a Manuela Muzzolini di dare lettura dei documenti io ho ricevuto l'omello girata perché l'ha stampata ma ho voluto proprio non leggere perché voglio sentirlo anch'io per la prima volta quali sono questi documenti e poi facciamo la domanda ma gliela facciamo dopo Allora sono per darmi un dato temporale allora questo brano che stiamo leggendo adesso siamo a circa sei mesi dopo il processo siamo in siamo a Roma e siamo sei mesi dopo il processo è l'inizio dell'autunno quindi circa due anni fa esattamente due anni fa ciao ho delle coperte in macchina e una montagna di vestiti sono nuovi ci sono anche alcune cose da bambino come vanno le cose chiedo a Salaika vive nella baraccopoli sotto il ponte Marconi a cinque figli le abbiamo battezzati qualche tempo fa ormai sono venuti anche a Santa Marta quando un'altra famiglia del loro clan ha deciso di battezzare tutti i loro sette figli Salaika ha incontrato Papa Francesco ha pianto con quegli occhi che prima di allora io credevo incapace di emozionarsi è novembre il sole a Roma non è più lo stesso è passato un anno e tre mesi dal processo Sal tuo marito dove sta? risponde che sarebbe tornato breve mi siedo sul bordo del portabagagli aperto della Lexus Pietro il mio autista si appoggia allo sportello e si fuma una sigaretta mi fa l'occhiolino padre Lombardi nel suo libro sul processo l'ha definito l'uomo di fiducia ma Pietro è ben altro Pietro è il fratello che non ho mai avuto lavora con me da quando è stata istituita cosea era un ragazzo neanche 24 anni oggi ne ha 30 ha una figlia e un bagaglio di segreti da fare invidia ai miei è il solo e unico che sa tutto ogni cosa l'unico che dallo specchietto retrovisore del suo posto di guida ha osservato la storia realizzarsi lui conosce Roma e il Vaticano come nessuno ha una rete fatta di ombre che sanno muoversi sulla piazza romana per fornire tutto informazioni in primis chi entra chi esce dal Vaticano chi pranza con chi gli alberghi le palestre lui osserva non ha mai parlato mai con nessuno di niente sal noi andiamo di a tuo marito che Pietro passa a dare uno sguardo ai documenti se è tutto ok la settimana prossima vengo a prendere delle cose va bene certo signora va bene la saluto Pietro le lascia scivolare una banconota nella mano ruvida si rivedranno Salaika e la sua famiglia custodiscono i documenti del mio archivio quello personale che ho costruito durante Cosea e che sto pensando sia arrivato il momento di rendere noto non esiste un dolore più forte di quello che si può provare quando ci si sente vittima di un'ingiustizia quando pensi che quello che ti è stato fatto non te lo meritavi è passato tanto tempo ma il pensiero della vendetta è qui ho carte con cui potrei seppellire i miei accusatori sotto una montagna di fango le ho conservate perché sul mio capo pende ancora un'indagine presso la procura di Roma necessito di queste cose overmai si è chiamata difendermi la mia agenda agenzia prospera entrano in carichi uno dopo l'altro il giorno indosso la mia divisa il solito trailer nero e la solita camicia bianca di quattro taglie più grandi di prima dal 31 ottobre giorno del mio arresto in Vaticano ho preso a dividere la mia vita con un prima e un dopo il prima è tutto per ora il dopo un groviglio di cose la rabbia così devastante che neanche riesce a placarla non i soldi non il viaggio non il lavoro non le interviste non la fama ecco perché voglio rivedere quei documenti e pubblicarli un documentario ho già incontrato il regista un ragazzo che vive a Berlino e lavora per una casa di produzione che vende a Netflix tutte le foto i segreti che avrei dovuto portarmi nella tomba ogni cosa e forse distruggendo chi ha cercato di distruggermi io stessa troverò pace è sera la mia decisione è presa il giorno dopo incontrerò il regista devo fare solo una telefonata prima è un atto dovuto affinché quello che sto per fare lo sappia da me anziché dagli altri mi aveva insegnato che la fede è servizio gli avevo confessato due anni prima che Monsignor Balda stava per dare le carte ai giornalisti l'aveva accolto nella casa che abbiamo giù al mio paese per farlo ragionare senza riuscirci era un amico un fratello la persona che ha celebrato la mia cresima il mio matrimonio gli avrei dato una delusione terribile ciao Don Carmè esordisco al telefono ciao donna mi chiama così da 25 anni quando non era una donna ma solo una ragazzina sto per fare un casino ancora e ride domani ho un appuntamento con un regista pubblico tutto rivolgo la mia dignità ah sì sei sicura mi chiede è serio adesso sì donno non ho scelta devo ricordare al mondo chi sono io non sono quella persona che hanno descritto nel processo io lo so chi sei ma tu te lo ricordi non replico ti mando un link di una cosa ti chiamo domani dice e riattacca questo immagino che questo faccia parte del possibile prossimo libro ma si parla anche si parla anche di un film quindi c'è cosea c'è questa consegna di documenti ai giornalisti una serie di libri che escono sulla base di quei documenti che probabilmente rappresentano solo un di cui di quello che è stato scoperto dai lavori di cosea c'è un processo c'è il prelato che poi è quello che materialmente ha consegnato questi documenti che è quello che poi dal punto di vista penale nell'ambito del Vaticano viene condannato ma ma poi c'è un seguito appunto c'è la voglia di rivelare tutto perché nell'ambito del processo capisci che cosa sta succedendo capisci le ragioni del processo ecco la domanda che io ti pongo è questa Francesca qual è l'obiettivo finale cioè è l'obiettivo originario di cosea o è la voglia di vendicarti anche tu di avere quella giustizia che ti è stata data perché comunque l'aver riallacciato i rapporti col Papa penso che da un punto di vista umano per qualunque persona che abbia vissuto queste emozioni sia forse la pacificazione assoluta l'obiettivo massimo ma forse non sei contento di quello cioè vuoi che si vada avanti oppure vuoi che il Papa nella sua attività di gestore di capo del Stato del Vaticano ricordo che il Papa è il capo assoluto all'interno dello Stato del Vaticano vi dico una chicca ma così voi sapete che esiste questa macchina infernale che si chiama Unione Europea no? penso che la conosciamo tutti io lo forse un po' meglio di qualcuno ma sapete perché lo Stato del Vaticano non può far parte dell'Unione Europea perché non rispetta gli standard di democrazia richiesti dall'Unione Europea per farne parte perché essendo di fatto una ma nemmeno non è una dittatura perché comunque viene eletto non è una monarchia perché non c'è comunque la dinastia dei papi visto che morto un papa se ne fa un altro ma appunto se ne fa un altro ma dal momento che viene eletto il papa il papa ha poter assoluto quindi nel Vaticano non c'è democrazia ci si affida all'illuminazione diciamo del capo assoluto che è il papa e insomma e poi questo per quanto riguarda le funzionalità dello Stato del Vaticano come avete detto io sto tenendo un atteggiamento molto laico nel parlare del Vaticano parlo del Vaticano come Stato non intendo aprire un dibattito sull'attività pastorale del papa questo spetta ciascun cattolico chi è più soddisfatto chi meno chi si sente vicino a quello che è il mondo dei gesuiti chi invece nell'ambito del dibattito all'interno della chiesa d'accordo vorrebbe che i gesuiti facessero alto ecco insomma non vi dico come la penso ma non è questo quello su cui voglio che ci si concentri oggi è sul ruolo del papa come capo dello Stato del Vaticano quindi la domanda che pongo Francesca è questa qual è il confine tra la voglia di avere quella giustizia che umanamente chi subisce dei torti vuole o è invece la voglia di permettere al capo dello Stato del Vaticano di raggiungere il suo obiettivo di mettere a posto i conti che effettivamente sotto tanti punti di vista fanno un po' acqua da tutte le parti allora intanto non rivelerò cosa ho fatto nel libro se veramente ho pubblicato o no questi documenti o cosa ho fatto perché questo bisognerà bisognerà aspettare appunto l'uscita di questo secondo libro per saperlo però Fabrizio per rispondere a quello che tu mi dici l'esigenza di trasparenza allora l'esigenza di trasparenza non significa prendere tutto quello che sono il patrimonio di dati di uno Stato e renderli pubblici perché questo non ha senso non è che si dà un malo raggiunto alla causa raccontando quanto si investe per il fondo sanitario piuttosto che per l'assicurazione dei nunzi o altro diciamo che quello che serve su cui venga fatta veramente chiarezza sono le procedure era lo scopo di cosea ma lo scopo stesso della riforma degli affari economici era quello di chiarire le procedure di gestione dei beni della Chiesa perché perché a un certo punto ci si resti conti che questi beni non sono illimitati perché vedete del Vaticano si ha l'idea di uno Stato ricco e signori io vi posso assicurare che non è così ci sono stati tipo Monte Carlo Panama Andorra stati cito questi qua non perché sono paradisi fiscali ma perché hanno dimensioni seppur molto più grandi ma comunque in qualche modo paragonabili a quelle dello Stato città del Vaticano e sono molto più ricchi quindi queste finanze che ci sono in Vaticano anche il Vaticano produce dei beni e quindi di conseguenza ha l'opportunità di risanare le proprie finanze farle incrementare farle crescere eccetera quindi questi che sono i beni nella Chiesa possono variare di poco ma sono quelli che servono per amministrare per portare avanti il Ministero Petrino quindi è chiaro che la necessità nasceva non tanto da una voglia di andare a fare la guerra che aveva gestito prima e andare a vedere perché aveva gestito male ma più che altro dire guardate questa gestione ha portato a perdere del denaro questo denaro ci serve per le emissioni facciamo attenzione perché se non lo spendiamo bene rimarremo senza e addirittura lo stesso scopo della gestione vaticana non poteva essere messo in pericolo quindi da questa necessità da una lettera che il revisore dei conti mirano al pontefice nasce l'idea di creare una commissione ad hoc per le riforme delle affari vaticani e questo è il primo passaggio fondamentale è riuscita questa riforma purtroppo no perché ad oggi il dicasterio delle finanze è ancora rimasto è ancora rimasto appunto senza un capo senza una strada senza un un proseguo però sono stati fatti dei passi avanti molto importanti dei passi avanti perché pensate all'interno del corpo della gendarmeria che è appunto la sorta di carabinieri polizia che abbiamo all'interno dello Stato e l'organo di polizia giudiziaria che abbiamo nello Stato è stata costituita un corpo che si occupa di reati finanziari che collabora con l'AIF che è l'autorità di vigilanza finanziaria che c'è all'interno dello Stato che ha il potere di chiedere documenti di chiedere trasparenza sulla gestione dei conti quindi questo è un passaggio fondamentale uscito poco sulla stampa ma fondamentale è stato istituito un sistema di controllo e vigilanza sui bilanci della Santa Sede e questo è un altro passo fondamentale sono stati chiuse decine di conti allo IOR che non erano trasparenti sono stati fatti uscire dall'APS una banca centrale della Santa Sede una serie di conti che non dovevano essere lì perché non avevano diritto a essere lì e quindi sono stati trasferiti altrove sono stati fatti una serie di passaggi molto molto importanti sono state dettate le regole per la realizzazione dei bilanci la norma secondo quelle che sono gli standard europei sono stati sono arrivati a lavorare in Vaticano nei manager preparatissimi abbiamo fatto delle assunzioni cioè il lavoro che è stato fatto è stato creato nel Castero che è quello cui io ho lavorato principalmente che è quello di Castero per la comunicazione che grazie a Dio funziona benissimo e ha accorpato sette di Casteri ne è nato uno uno che funziona veramente bene e questo tutte queste cose sono dati che comunque sono stati fatti a che prezzo si domandava Fabrizio valeva la pena tutto questo valeva la pena valeva la pena e valeva la pena aver sopportato per Papa Francesco io credo che non è stato facile Fabrizio diceva ecco della condizione umana in cui io mi sono trovata la persona che mi aveva scelto era la stessa che mi lasciava che affrontasse il processo ma con il senno di oggi io vi dico che ha fatto bene sapete perché perché se lui non avesse consentito a quel procedimento di accertare i fatti la verità come è stato fatto non avrebbe sconfessato le sue stesse istituzioni quindi avrebbe fatto in modo che queste istituzioni perdessero di valore io ritenevo di essere più importante di questo perché non riconoscevo a me il ruolo di commissario pontificio e non riconoscevo al Papa riconoscevo il ruolo umano e non il ruolo di capo di uno Stato e di capo della Chiesa nel mondo ero incapace di vedere nel momento in cui io ho capito questo sono riuscita a fare quel passaggio dalla rabbia alla ricostruzione di qualcosa nel mio secondo libro vedete come ho fatto questo passaggio e vi renderete conto che proprio le persone che io ritenemo essere i miei nemici le persone che mi hanno arrestato quindi la gendarmeria chi è dato l'ordine la gendarmeria la segreteria di Stato sono le persone che mi hanno aiutato concretamente a trasformare quella rabbia in qualcosa di diverso nel mio secondo libro vedete che cosa di diverso ma è il Vaticano che cura le mie ferite è il Vaticano che me le infligge ma è il Vaticano che me le cura è il Vaticano che mi arresta è il Vaticano che mi accoglie è il sacerdote da cui io cerco questa persona a cui io chiamo era il prete che è il mio padre spirituale e quindi nel momento in cui io sto perché i documenti che ha consegnato Monsignor Balda dalla stessa sentenza sono documenti che vengono riconosciuti riservati ma non di vitale importanza allo Stato i documenti che io conservo che è uscito sul Corriere della Sera un mese fa quindi insomma è fatto noto ho deciso di riconsegnare al Vaticano sono documenti protetti da segreto sono veramente documenti rilevanti quello sarebbe stato il vero danno è un danno che però mi avrebbe ripagato perché diceva vedete quelli che mi hanno arrestato sono questi qua però poi che cosa avrei fatto era davvero quello che volevo era questo quello a cui ero chiamata cioè a un certo punto io avevo perso di vista chi fossi poi semplicemente 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 ecco appunto è immaticato vedete dove ho maturato la scelta che io faccio in questi documenti in Vaticano nello stesso posto in cui ero uscita dicendo io qua non torno più io sono uscita dicendo al Santo Padre tu mi hai distrutto la vita tu mi hai fatto affrontare il processo e dov'è che io decido cosa fare del mio futuro di nuovo là dentro chi sono le persone le stesse persone perché per una ragione molto semplice perché da determinati ruoli non si smette mai non si può uscire si diventa il ruolo che si ha quindi nel momento in cui io ho giurato sull'altare di Santa Marta dove oggi il Santo Padre dal primo giorno che è stato là celebra le messe tutte le mattine io ho giurato che avrei portato fedeltà alla Chiesa ho avuto un momento difficile avevo smarrito quella certezza e io l'ho ritrovata lì perché lì ho capito che quel giornamento è un giornamento che si fa per sempre come quando per un cattolico ci si sposa o come quando ci si cresi ma quando ci si battezza io ero commissario pontificio quindi quelle il fatto di aver subito un'ingiustizia un danno un processo non mi rendevano meno commissario pontificio dovevo portare ero dovevo portare la mia croce no? e così e così ho deciso di ho deciso di ve lo dicono al secondo libro cosa ho deciso però lascio la la parola ancora di nuovo a cosa ha deciso lo staremo per per leggere quello che però mi fa una certa impressione penso che faccia impressione un po' a tanti ripeto ognuno ha il suo pensiero ogni cattolico ha il suo pensiero in merito a questo mandato pontificio però il fatto che Francesca che è qui si dia del tu col papa è comunque una cosa che fa cioè non è solo il ruolo del commissario pontificio è il ruolo di una persona che ripeto si dà del tu col papa nei momenti di senso nei momenti poi di riappacificazione e colgo anche l'occasione per salutare Pietro perché comunque il Pietro non il bimbo ma il Pietro del quale si parla la spalla il bodyguard l'autista la persona più di che oltretutto nel testo dice padre di una bambina però sappiamo che il padre di una bambina tra qualche mese diventerà padre di tre bambine quindi l'applauso Pietro te lo meriti davvero tutto perché essendo anch'io papà di due gemelle non posso che capire l'avventura la quale felicemente vai incontro e quindi adesso passiamo all'ultima parte la terza parte quello del link che viene aperto e della decisione che Francesca matura in merito a questo suo rapporto con il minuscolo ma potentissimo stato del Vaticano apro il link che mi arriva due minuti dopo sono foto io giovane anzi piccola 17 18 anni con il mio gruppo di amici siamo a Tor Vergata sulla spianata sono vicina al palco aspetto Giovanni Paolo secondo ho un cordone blu in mano faccio il servizio d'ordine insieme a migliaia di altri ragazzi volontari delle GMG di Roma del 2000 sorrido con quella corda in mano che difende il Papa la foto è di quelle fatte ancora con i rullini è sbiadita ma si vede l'orgoglio che provo e con un'altra sono io che sparo acqua sulla folla da un idrante della protezione civile sempre alla GMG poi ancora io che faccio volontariato con le misericordie del mio paese io che taglio patate ad un campo scuola io che suono la chitarra noi a Lourdes che animiamo la processione io che mi trascino sedia a rotelle su per le salite io sposa mentre lui celebra il mio matrimonio io insieme ai miei amici e ancora io con lui a Santa Marta lui che celebra accanto a Papa Francesco io insieme a Papa Francesco a comprare gli occhiali io che scherzo sulla Papa Mobile vuota io con un camion di provviste per i poveri io con i miei poveri sotto il colonnato di San Pietro io che tengo Pietro appena nato in braccio e un bimbo di colore nato nella casa famiglia ecco chi sei e chi sarai sempre è la scritta che accompagna quelle foto e poi un link è l'Emmanuel che sommerge la casa di quella musica che non ascoltavo da anni l'inno della GMG che avevo cantato e suonato per anni aveva rappresentato talmente tanto per noi che l'avevo scelta come canto al posto dell'Ave Maria al mio matrimonio da questo cielo e da questa luce chiaro si rivela che non si vive se non si cerca la verità dice una strofa dell'inno e su quelle note come un'esplosione va in pezzi tutto il dolore che ho provato come se una diga si fosse rotta come se il mio cuore si fosse aperto e una diga di rabbia stesse fuori uscendo come veleno da un'ampolla rotta come pus da una ferita infetta piango per la prima volta dopo anni e anni piango per Cosea piango per il processo piango per gli articoli dei giornali piango per la mia vita che non riconosco più piango per le brutte cose che ho detto sulla Chiesa piango per le migliaia di interviste fatte piango perché nel darmi ragione ho cancellato tutto compreso chi fossi piango per mio figlio che non ho ancora battezzato per mio marito piango per me stessa per la strada che non trovo e piango per questa montagna di carte di cui non so più cosa fare l'applauso è meritatamente dedicato proprio a Manuela Mazzalini che ha letto con l'intonazione giusto con anche è difficile penso leggere in un momento in cui si vive anche un po' siamo tutti un po' emozionati dalle parole di Francesca dal clima dal video da quello che abbiamo sentito e quindi è riuscita a trasmettere anche con la voce con la tonalità queste queste emozioni e quindi soltanto chi scrive libero è capace di leggerle in questa maniera e io chiederei adesso a Francesca le sue conclusioni e mi riservo poi qualche minuto per delle mie conclusioni allora le mie conclusioni le mie conclusioni signori sono solo diciamo quelle di una persona che veramente oggi vi dice ma mi è successo il male ho affrontato il male perché volevo fare il bene perché volevo 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 ma cosa vogliamo in realtà in realtà siamo veramente qui siamo in oratorio quindi posso dirlo siamo veramente parte di un progetto più grande e se cominciamo a percepirci davvero come parte di un progetto più grande allora troviamo il senso della nostra vita del nostro fare del nostro agire dalle cose più grandi come quelle che sono capitate a me alle cose normali che mi capitano tutti i giorni che sono quelle appunto di cercare di trovare un senso alla mia vita con il con il mio lavoro con la mia agenzia con le persone che lavorano con me per i quali devo riuscire a trovare un senso un coraggio una forza per per mandare avanti tutti oggi l'agenzia è cresciuta siamo quasi 12-13 persone quindi 12-13 famiglie che ogni mese devono riuscire ad arrivare a fine mese e allora e quindi e quindi niente nel senso oggi la c'è la prima foto che ho visto di mio figlio in braccio al Papa e lo condivise sui social perché è stata veramente quel tornare a casa no? e ho visto lui e ho detto beh vedi alla fine la vita il bene vincono sempre questo è il senso più profondo di questa storia qua è perché quanti giri possa fare il mondo il dolore eccetera la speranza la vita vincono sempre allora vi dico e lo dico sempre a tutte le persone che incontro lottate per la cosa che credete anche quando si sembrano impossibili da raggiungere lottate lottate perché alla fine se quelle cose sono vostre sono giuste sono vostre vi apparterranno e torneranno da voi davvero e non posso che augurare a Rivarolo a Fabrizio ringraziare di nuovo la nostra professoressa per le letture per la vicinanza per tutto il resto veramente dicevo a Fabrizio posso augurare Fabrizio ha avuto un ruolo politico molto importante a Rivarolo e mi auguro che il suo impegno politico possa continuare con incarichi che possono dare prestigio alla sua carriera e un'opportunità a questa comunità e al nostro paese grazie Fabrizio io concludo con qualche riflessione qualche comunicazione innanzitutto quando prima ho detto perché parlare del Vaticano a Rivarolo ho dato la spiegazione più banale sono partito di politica estera e non posso non parlare del Vaticano ma c'è anche un altro aspetto vedete sono un partito di politica estera ho fatto parlamentare europeo mi candiderò alle prossime elezioni per tornare al Parlamento europeo ma al di là della mia grande passione per la politica estera c'è anche la mia grande passione per Rivarolo allora mi domande ma che ciazzecca a Rivarolo con il Vaticano beh io sono stato qualche mese fa ero a Danagni dove peraltro anche se porto il mio bisnonno mi dicono Anagni è la città dei papi Rivarolo non è Anagni ma voglio solo ricordare che Rivarolo ha dato i Natali a due fratelli entrambi sono diventati sacerdoti entrambi sono diventati vescovi anzi uno ha ordinato ha fatto l'ordinazione episcopale all'altro il fratello quindi due fratelli di Rivarolo sono diventati entrambi sacerdoti entrambi vescovi entrambi nunzi apostolici della Santa Sede entrambi riposano adesso al cimitero di Rivarolo peraltro recentemente scomparso l'ultimo dei fratelli mi riferisco a Monsignor Giovanni Giuseppe De Andrea quindi penso che Rivarolo abbia questo forte legame con la città del Vaticano perché nunzi apostolici peraltro con incarichi importantissimi nella diplomazia Vaticana penso che una città che abbia due fratelli entrambi con un carriera nell'ambito della depolazione Vaticana e parliamo di una città di 12.500 abitanti penso che possa avere le carte in regola per dire di avere un certo legame con la città del Vaticano quindi faccio anche l'appello forse sarebbe il caso che questa amministrazione alla prossima meditasse anche di dedicare una strada a queste due figure rivarolesi perché penso siano orgoglio di Rivarolo e soprattutto un segnale di legame tra la città di Rivarolo e lo stato del Vaticano e penso sia anche mio compito dire quali saranno i prossimi appuntamenti dell'officina delle idee posso anticipare che faremo una puntata dedicata alla Brexit avremo ospite l'onorevole Daniele Capezzone che ha fatto un libro sulla Brexit faremo un altro incontro anche sulla figura di Danunzio visto che siamo a 80 anni c'è una scadenza importante 80 anni dalla morte non vorrei fare una brutta figura quindi taccio ma c'è una scadenza che riguarda la vita di Danunzio una cifra tonda quindi merita di essere ricordata questo poeta attraverso la presenza di Edoardo Silo Slabini un grande attore che ha avuto il merito di portare la figura di Danunzio in teatro e che quindi oltre che essere un gran conoscitore anche bravissimo nel recitare Danunzio ci verrà a parlare di Gabriele Danunzio che in fine conti è stato forse il primo inventore del marketing dell'italianità del mondo penso che si possa riflettere molto sulla figura di Danunzio sempre nell'ambito dell'Officina delle Idee ma penso che sia anche giusto che l'Officina delle Idee dedichi una serata alla città di Rivarolo della quale mi occuperò personalmente quindi un sogno per Rivarolo penso che possa essere anche un argomento del quale tratteremo immagino tra qualche settimana in questa sede sempre nell'ambito dell'Officina delle Idee anche per fare chiarezza su tutta una serie di notizie di appelli che si stanno rincorrendo sui social che mi riguardano direttamente e alle quali comunque penso sia giusto dare una risposta per portare quegli elementi di chiarezza anche nell'ambito di un programma che riguarda quel sogno di Rivarolo che dentro di me non si è ancora mai spento quindi vi ringrazio per questa serata vi do l'appuntamento quando esattamente non lo so ma noi sappiamo sappiamo come comunicare ricordo che è in vendita il libro grazie alla disponibilità della libreria Il Punto che ha portato alcune copie del libro che Francesca sarà sicuramente disponibile ad autografare per quanti vogliono accompagnarci a cena perché poi comunque voglio dire non si vive soltanto di parole di libri di emozione ma anche il piacere di sedersi a tavola tra amici abbiamo organizzato come al solito mi ha chiesto al ristorante come ci devono di tenere aperto fino a tardi per permettere alle persone che vogliono accompagnarci a cena venire con Francesca e quanti permettetemi anche però di salutare un amico che è venuto da Roma oggi Antonio Parisi perché non è un mistero è il coautore di un libro al quale stiamo lavorando insieme e che sarà in libreria nel mese di novembre che riguarda chiaramente la politica estera perché purtroppo questo vizio non me lo toglierò ma di questo magari ne parleremo un'altra volta buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti